Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Credo dimostri che c'è un grande interesse anche sulle proposte che si fanno per il lavoro, attenzione al sindacato, sfatando tanti dei miti a partire da quello che non siamo in grado di fare proposte, non siamo in grado di rapporti con la gente, anzi l'opposto.